Vi voglio raccontare un fatto personale per poi arrivare a spiegare il delirio che stiamo vivendo. Intanto ricordiamoci una cosa, che avevano parlato fino a poco tempo fa di riaperture addirittura dei ristoranti la sera. Cioè stavano ragionando sull'ipotesi, fino a una decina di giorni fa, ad un'ipotesi volta a riaprire i ristoranti la sera, a dare un po' di più, ok? Addirittura hanno parlato della riapertura dei teatri. E ora vedrete che i teatri e i luoghi che per ora sono stati, anche qui nel nome della cultura, molto penalizzati, vedrete che anche loro tra poco saranno all'ultimo momento raggiunti da una comunicazione che dirà loro controordine. Controordine e compagni, qui è il caso di dirlo perché sono sempre gli amici della combriccola di chi ci governa, di questa gente qua un po' sinistrosa, ok? Quindi, vabbè, fatto sai, diranno controordine e compagni, si chiudono un'altra volta pure i teatri, i circoletti loro. Quindi, ricordiamoci di questo, che in mezzo al marasma generale, quelli che avrebbero dovuto riaprire, e attenzione, dobbiamo ancora parlare di Pasqua, pensate al casino che arriverà con Pasqua, quelli che avrebbero dovuto riaprire, stando all'indicazione di qualche giorno fa, adesso sono chiamati a richiudere un'altra volta tutto. Idem per quanto riguarda i teatri e i circoli culturali. Ma ora vi voglio raccontare una cosa, perché se dopo un anno noi siamo ancora dietro le chiusure, le zone rosse, l'unica variante che hanno saputo partorire dalle loro menti bacate è la variante del colore arancione rafforzato, in attesa di arrivare al rosso tiepido, in modo tale che quel rosso non scatta e loro non pagano, perché la morale della vicenda è che dopo un anno i soldi non li hanno, e quindi se non li hanno avuti finora questi soldi, non è arrivato un tubo, io mi domando a fronte dell'ennesima chiusura che cosa diavolo racconteranno a tutti gli imprenditori, a tutti i ristoratori, a tutti i negozianti, a tutte le partite IVA, a tutto quel mondo che finora è rimasto lì, ma che non ce la fa più. Io oggi ho parlato con le partite IVA, ieri ero in piazza con le palestre, come avete avuto modo di vedere, ma perché si arriva sempre a questo? Semplice, perché in un anno non sono stati capaci di ordinare, secondo un minimo criterio logico, le cose, le strutture. Se siamo ancora dentro le loro cosiddette terze ondate, emergenza di qua, emergenza di là, è perché non sono capaci di far funzionare un tubo, un tubo di niente. Ora vi porto un esempio che mi è capitato in famiglia, mi è arrivata adesso, poco più di un'ora fa, un'ora e mezza fa, mi è arrivata una mail da parte della mia, chiamiamola ancora, mia vecchia ASL, ok? L'ATS dell'Insubria, e mi informa che mio figlio, nella classe di mio figlio, era stato segnalato un caso di Covid. Quindi la data indicata come ultimo contatto con il caso positivo, in ambito scolastico, è il 26 febbraio del 2021. Quindi mi informano oggi che è avviata la quarantena per mio figlio. Cioè, ormai mancano, si dice, è obbligatorio l'isolamento di 14 giorni. Praticamente fra due giorni finisce la quarantena, e noi genitori oggi riceviamo la mail dall'ATS in Subria. Io mi domando, ma come cazzo possono pensare di gestire dopo un anno l'emergenza Covid così, e nel frattempo non dire altro che chiudiamo? Cioè, non sono capaci di gestire le cose minime, stanno bloccando le scuole, le attività commerciali, stanno bloccando il paese perché non sono capaci, cazzo. Non sono capaci. E questo l'ho ricevuta io, ma queste storie così ne ricevono a bizzeffe gli italiani. Questa è la loro assoluta incapacità, prova provata. Cazzo, mi dici che è stato segnalato un caso di Covid a scuola di mio figlio il 26 febbraio, e poi mi fai, quindi, obbligatoria. Leggo qui. Per tale ragione è necessario l'avvio di quarantena fiduciaria che, come previsto dalla normativa vigente, comporta obbligatoriamente un isolamento di 14 giorni data dall'ultimo contatto, sovraindicata. Peccato che praticamente questi 14 giorni, dei quali siamo venuti a conoscenza oggi, scadono praticamente dopo domani. Cioè, voi capite? Stanno bloccando un paese e non sono capaci, perché non sono capaci di risolvere le cose. E allora con le balle puoi durare fino ad un certo punto. Quando sono a corto di balle, ecco che alla fine chiudono. Perché se si arriva alla chiusura, non è perché c'è la paura, perché non sono capaci. Perché non sono capaci. Ma ha scritto un altro signore che lavora in un'ausola, in uno di questi presidi territoriali. E mi dice, io lavoro a servizio di sorveglianza sanitaria in un'ausola italiana. L'attività consiste nel monitorare le persone e le famiglie in quarantena. E mi dice, guardate che confusione. All'inizio della pandemia, a febbraio-marzo, chi veniva riscontrato positivo al tampone doveva presentare due tamponi consecutivi negativi per uscire dall'isolamento. E questo, secondo appunto la sua ricostruzione, mi ha portato ad un calo della diffusione. Quindi i tamponi, la logica del tracciamento, aveva dato un certo riscontro. Dopo l'estate, dall'autunno, più precisamente novembre-dicembre 2020, che tra l'altro è il periodo in cui io mi sono fatto il covid, il novembre, con l'arrivo della seconda ondata, se la persona presentava due tamponi positivi a distanza di dieci giorni dall'inizio dell'isolamento, poteva comunque uscire da questa situazione dopo 21 giorni dal primo tampone positivo, purché non presentasse sintomi. Ma come? Ci avete raccontato che il contagio avviene anche con gli asintomatici e anche qui fanno a spanner. Dopo se la prendono con gli assembramenti, dopo se la prendono con i ragazzi, se la prendono con chiunque e mai che se la prendessero con i responsabili del fallimento. Del resto, quando questo governo di geni e del grande genio Mario Draghi conferma lo stesso ministro Speranza, vuol dire che non c'è nessuna volontà di cambiare le cose, vuol dire che quindi dentro questa situazione non sanno minimamente che pesci prendere. Quindi il grande fenomeno di Draghi serve soltanto, come vi abbiamo detto mille volte, in funzione di come i grandi poteri possono entrare a mangiare, anche in Italia, i soldi in prestito del recovery. Per questo hanno mandato Draghi. Non per salvare gli italiani, ma per rendere ancora più forte l'elite e il potere finanziario. Solo per questo, perché quando tu mi confermi ancora il ministro Speranza, tu non vuoi cambiare le cose. E non mi dite Ah, però ha cambiato Arcuri. Ma che cazzo ci voleva cambiare Arcuri? Arcuri lo poteva cambiare chiunque, perché bastava soltanto leggere i giornali, bastava soltanto capire minimamente come stessero andando le cose per cambiare Arcuri. Quindi non è che ha fatto sta grande genialata. Va bene. Comunque, arriva la terza ondata, ci scrive sempre questo signore, arriva la terza ondata e dal 4 marzo le disposizioni in partita hanno fatto marcia indietro. E ad oggi il caso positivo, cioè persone in isolamento perché presenta un tampone positivo, può uscire dall'isolamento solo se presenta un altro tampone negativo. Quindi continuano a cambiare le regole, continuano a cambiare le disposizioni, non capiscono un tubo, un tubo, un tubo. Eppure chiudono. Ai ristoratori, ai baristi, ai locali, gli avevano detto adesso vi facciamo riaprire, vi facciamo riaprire, allentiamo un po' di più e richiudono un'altra volta. Cari signori che gestite i cartelloni teatrali, chiuderanno anche voi e non pensate di uscire indenni da questo delirio di norme e di stupidaggine assoluta. Però l'importante è darci il bollettino quotidiano. Bene, il bollettino quotidiano è il bollettino della loro assoluta incapacità. Ogni giorno che leggete un bollettino dovete pensare ad un ad un assembramento di gente incapace che sta bloccando l'Italia. Quindi ad ogni bollettino dovete pensare ai danni creati e provocati dall'incapacità di queste persone. Oh, vi ho portato un esempio pratico, pratico di come sono incapaci. Ve l'ho letto, ve l'ho letto. Poi ovviamente così si muove l'epidemia e adesso comunque finalmente si riempiono la bocca di vaccini con il contratto con Pfizer, con il contratto con Tizio, con Caglius, la verità è che anche il vaccino lo stanno utilizzando soltanto per tentare di crearsi degli alibi perché onestamente ormai la parola verità rispetto ai vaccini è una parola variabile, è una parola impercettibile, è una parola gassosa. Di quale verità mi parli quando l'unica verità che dovrebbero mostrarci è quella di contratti trasparenti, di dirci le cose come stanno e invece una multinazionale si alza la mattina dice una cosa e la sera ci dice l'opposto come è successo ieri Johnson & Johnson no non vi diamo i vaccini poi dopo un po' no vi diamo i vaccini nel frattempo che cosa è successo? Quindi siamo veramente al delirio comunque l'Italia è chiusa nel weekend la riunione della cabina perché capito gli incapaci devono avere la cabina di regia perché si riuniscono c'è un trust di cervelli si deve riunire per partorire queste cose non pensare a come abbiamo sempre detto non pensare a mettere a posto la filiera delle strutture territoriali locali di portare la cura a casa di impattare su un protocollo farmacologico no terrorismo puro con i pallottolieri ma sono incapaci incapaci di gestire la quotidianità quindi ora stanno disegnando appunto le modifiche al DPC e si va verso la chiusura di bar ristoranti sabato la domenica in tutta Italia ecco e perché parlo dicono gli scienziati intanto accordo Unione Europea Pfizer fanno sempre accordi cioè accordi 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 ma com'è l'avevate già chiuso l'accordo non ci avete raccontato che l'accordo era chiuso che era tutto a posto arriveranno a tutti cioè siamo veramente all'assurdità il vaccino è la loro parola magica per tentare di esorcizzare così la gente dice no magari il vaccino ci risolve tutto perché ormai ci sono persone che dicono senti di fronte a tanta scempiaggine vediamo se veramente con il vaccino andiamo così a tentativi andiamo a tentativi oh ragazzi grazie